Umberto, siamo a bordo di una barca e qui c'è una medical bag e un manuale di primo aiuto. Ogni tanto, speriamo mai, però può essere necessario avere a bordo una dotazione del genere. Certo, l'emergenza medica è uno dei problemi che si affronta in barca. Tendenzialmente si tende sempre a pensare alle cose più gravi, in realtà crea un imbarazzo non a crociera, anche solo familiare con degli amici, anche problemi più piccoli. Sicuramente il modo migliore per affrontarlo nel 2012 è contattare comunque un medico a terra. È fatto obbligo anche dal codice di navigazione, mettersi in navigazione, potendo sempre contattare un medico a terra e noi abbiamo la fortuna in Italia di avere un centro di telemedicina. È un TMAAS, come ce ne sono altri nel mondo, è il primo nato però ed è stato copiato da altri. Proprio per questo abbiamo lavorato due anni e mezzo, sia con il CIRM di Roma che con l'Università della Sapienza di Roma per creare un manuale di pronto uso, perché questo è un prontuario, cioè è stato creato proprio per essere utilizzato rapidamente. A seguito di questo chiaramente ci si è posti anche i problemi della cassetta medica. Quindi se vediamo questo documento, è un documento fatto per essere utilizzato da una qualsiasi persona a bordo quando per esempio io che sono il più esperto a bordo magari mi faccio male. È anche impermeabile? Abbiamo iniziato a lavorare sul plastificato, ma il plastificato non dà garanzia. Allora abbiamo ricambiato tutta la costruzione e l'abbiamo fatto fare in PVC. Quindi un prodotto oneroso ma molto utile per chi fa del charter, perché questa roba qui anche in valigia non si rovina dopo 5, 6, 10 viaggi. E poi credo che è diviso per colori come i gradi di soccorso. Certo, codice rosso, codice giallo, codice verde. Il codice verde sono quelle cose che uno dovrebbe sapere prima, ma purtroppo chi conosce il nostro ambiente sa che a volte siamo a bordo con persone che non hanno mai fatto un corso di primo soccorso. Però siccome il target era proprio quello di farlo utilizzare da una persona che non ha fatto questo corso perché è la realtà dei fatti, non vogliamo essere concreti, le abbiamo messe in fondo. Gli altri manuali le mettono prima. Chiaramente in queste qui ci sono le posizioni da fare assumere a una persona, ci sono come si fa una medicazione, come si fa una iniezione, una fasciatura, un'immobilizzazione, fino alla farmacia. Però anche se non le so, io posso usarlo perché qua ho un indice multitasking, per esempio qualcosa agli occhi, lo vedo, lo capisco, corpo estraneo, vado alla scheda 7, alla scheda 7 ho uno schema di flusso, ho quelle cose che se sbaglio, se faccio non sbaglio perché quando uno fa un corso gli dicono meglio non fare che fare male. Allora però è importante invece in barca fare perché questo permette di mantenere una situazione sotto controllo e cominciare a agire. Si chiama il Tmas, si fanno queste 4-5 semplici cose, come vedete c'è un rimando sempre alle schede verdi se io non mi ricordo qualcosa e soprattutto qui ci sono le domande concordate con i medici del Tmas per cui loro riescono a salire a bordo con te grazie a queste domande già codificate. Poi c'è una piccola farmacia e tutto il resto. Benissimo. Da qui chiaramente c'è in ogni scheda una piccola farmacia e da qui è nata poi anche la borsa. E allora vediamo velocemente cosa c'è a bordo di questa medical bag. Allora intanto è conforme sia alla normativa italiana che alla normativa francese perché in Italia sappiamo che ci sono molte barche in lisi in francese quindi abbiamo seguito come linea di principio quella lì. Abbiamo scelto la confezione morbida perché in un pozzetto la confezione morbida si può adagiare facilmente e si può lavorare. Chi ha già a bordo la confezione rigida è molto comoda, ci toglie le bende, i cerotti che ci sono e lì ci mette i farmaci. Quindi se ci sono delle fiale, sono più protette eccetera e soprattutto l'equipaggio capisce che qui ci sono i farmaci e là ci sono gli equipaggiamenti di base. Chiaramente questa è stata costruita andando a cercare un po' di cose anche più che particolari più utili e facili da usare. Per esempio, qui in alto abbiamo i punti adesivi che chiaramente quando bisogna fare qualcosa del genere sono utili. Abbiamo il termometro che nella cassetta principale non c'è, non è previsto. Abbiamo invece che la solita pinza che serve solo per prendere le bende e medicare in maniera asettica abbiamo una pinza levaschegge perché sappiamo tutti che i ricci o cose del genere sono una cosa frequente a bordo quindi abbiamo scelto una pinza levaschegge. Poi non parliamo dell'acce mostatico perché purtroppo in molti casi è consigliato non usarlo però ci sono dei casi in cui bisogna usarlo, allora la cinghia emostatica è molto più utile per un profano perché intanto non stringe troppo e poi posso regolare la tensione più facilmente quando il medico via radio mi dirà che è meglio che molli un pochino perché la circolazione si sta mollando. Ma le cose più utili, perché sono anche le cose più frequenti, sono quelle che riguardano i tagli, le piccole ferite, tutte cose che capitano e allora per esempio per le stecche invece che avere le stecche solo quelle normali e obbligatorie eccetera c'è anche la stecca modellabile, una stecca in alluminio imbottito lunga un metro e mezzo che si può modellare e anche tagliare. Un'altra cosa molto interessante è la soluzione fisiologica perché è richiesta, certo si può lavare non con l'acqua dei serbatoi ma con l'acqua delle bottiglie ma la soluzione fisiologica è molto utile. Abbiamo casi anche di regatanti famosi che hanno avuto problemi agli occhi, abbiamo trovato il tappo per fare un lavaggio oculare e così via una serie di cose interessante è per esempio la tampobenda, una benda che prevede già un tampone come vedete c'è già un tampone per cui io posso fare un tamponamento con una benda elastica già predisposto. Poi abbiamo una sezione per le ustioni, una sezione per i cerotti e le varie cose che trovate anche in quelle obbligatorie e il ghiaccio perché spesso non c'è.